Salve, salve da Marco Calabro, stiamo seguendo il nostro percorso all'interno del Gran Palazzo nella città di Bangkok in Thailandia, quelli che stiamo vedendo sono i guerrieri a guardia dei templi, se noi vediamo le statue dei guerrieri sono poste all'interno, cioè che guardano dall'interno i templi del Gran Palazzo, quindi una concezione differente da quella che normalmente potremmo avere. Mentre proseguo per farvi vedere anche questo, vediamo qua la statua di un maestro Darmi che sta praticamente di fronte all'entrata del tempio che tiene, questo poi lo andiamo a raccontare, tiene praticamente resti del Buddha e qua vediamo il maestro Darmi.